Cari amici, siamo oggi qui a parlare di un'opera di Paolo Baratella, Un amore difficile. Questo quadro è una tecnica mista su carta e rappresenta questo amore non corrisposto. Paolo Baratella vuole un attimino prendere in considerazione quegli amori difficili che ci lasciano un po' il cuore spezzato e cosa si fa per dimenticarli? Un po' li si prende in giro, appunto quello che tenta di fare, disegnando sopra al viso di questa donna di cui è innamorato. Cosa fa? Disegna occhiali, disegna la barba, però alla fine l'amore che prova è comunque forte. E cosa fa? Ammette questo suo amore e lo incornicia con questo cuore rosso tratteggiato in maniera quasi infantile, quasi come se ci ritrovassimo ancora a scuola. Il quadro è contornato anche da una bandiera, dai colori della bandiera italiana. La nostra bandiera sarà forse un rimando appunto ad un amore difficile per la nostra stessa patria? Non lo sappiamo, però sappiamo che questo è un ottimo acquisto ad un prezzo veramente ridotto che vi potete portare a casa con queste offerte speciali estive. Potete prenotare l'opera, segnatevi il codice perché in questo periodo è importante sapere cosa volete portarvi a casa per raggiungere la vostra collezione e vi verrà consegnato, vi verrà portato in visione da un nostro incaricato. Mi raccomando, potete portarla a casa a rate, con la nostra finanziaria, come preferite. Non perdetevela!